Buonasera, l'esercizio di questa sera è un esercizio di cinematica, è un esercizio di 30 minuti, quindi difficoltà medio alta, per quale motivo? Vicino alla zona dove noi stiamo navigando, dove dovremmo risolvere un problema di anticollisione, c'è la formica terza, che cosa vuol dire? Che siamo nell'arcipeloto toscano, in prossimità del gruppo di isolette, di scogli affioranti, chiamato le formiche di Grosseto, e quindi il comandante decide di mantenere, alla stessa distanza di due miglia, sia il bersaglio che il rotto di collisione, sia le formiche di Grosseto, l'isolotto chiamato formica terza delle formiche di Grosseto. leggiamo così si capisce meglio. In navigazione dell'arcipelago toscano, in prossimità delle formiche di Grosseto, con vettore proprio 3-4-0, quindi stiamo andando parallelamente alla costa, 14 nodi, si rilevano al radar le seguenti battute di un bersaglio. Sono tre battute, fatte al minuto 0, al minuto 3 e al minuto 6, il rilevamento è costante e la distanza è in diminuzione, 13,2 nm, 12,3 nm, 11,4 nm. Probabilmente è un bersaglio che è appena uscito da terra, quindi da un porticciolo messo su terra, perché la distanza tra le formiche di Grosseto e la costa toscana più o meno è questa, quindi dovrebbe essere un bersaglio che sta venendo da terra. Considerato che la formica terza alle 22.57 ha un rilevamento di 0,07 e si trova ad una distanza di 5,8 miglia, inizia la manovra evasiva alle 23.09, quindi al dodicesimo minuto, come solito, e fare in modo che sia il bersaglio che la formica terza passino ad una distanza di 2 nm, è chiaro che noi dobbiamo passare da loro a 2 nm, ma nel disegno, stando noi al centro, saranno loro a passare a 2 miglia da noi. Anche qui, in questo esercizio, ci servirà il compasso a punta scrivente. I 30 minuti per un alunno ci vogliono tutti, noi spiegandolo magari ci potremmo mettere qualche minuto in più, ma non fa nulla. Nel fare il disegno ci prendiamo la penna e col nero facciamo il meridiano. Uso la penna anziché il pennarello, così la precisione è maggiore. Questo è il nord. Mettiamo adesso anche il parallelo. Questo è una specie di rapportatore diagramma. Di solito agli esami di stato il rapporto di diagramma non viene dato, quindi conviene imparare a farlo così. Siccome i rilevamenti del bersaglio sono rilevamenti uguali e rotto di collisione, mettiamo un'unica linea. 0,2,2, vedete? Ci aiutiamo con la squadretta e mettiamo la linea. Consiglio sempre prima di appoggiare la penna, poi mettere la squadretta e tracciare la linea. Leggera, leggera, questa della DMR. Le distanze sono 13,2, poi 12,3 e infine 11,4. Come scala delle distanze abbiamo usato la scala 1,1, il foglio A3 ci permetterà anche per la scala delle velocità di usare la scala 1,1 lo stesso. Preso apposta il foglio A3 proprio per questo motivo. Adesso tracciamo questo è il minuto 00, questo è il minuto 03 e questo è il minuto 06. Normalmente dovremmo prendere il compasso nautico, il nostro compasso nautico, andare a misurare questa distanza tra il punto 0 e il punto 0, ma siccome sono sullo stesso rilevamento basta fare la distanza del primo punto meno la distanza dell'ultimo, 13,2 meno 11,4, immediatamente scopriamo che questa distanza il movimento relativo è di 1,8 nautico al mile. Possiamo mettere subito in questa posizione il vettore relativo, qui mettiamo solo la velocità relativa, velocità relativa uguale a 18kn, 18 nodi. Prima di affrontare il problema del basso fondale facciamo finta che questo sia un bersaglio, è un bersaglio in collisione senza altri ostacoli, quindi trattiamolo nello stesso modo. CPA, il CPA ovviamente rotto di collisione sarà uguale a 0, quindi questa è la pericolosità del bersaglio. TCPA basta fare il minuto 0,0 che è 13,2 diviso 18 per 60 per trovare i minuti. 13,2 diviso 18 per 60 uguale 44esimo minuto, quindi qua con il nero scriviamo piccolo piccolo 44. Quindi qua scriviamo 44esimo minuto. Io lo ripeterò fino allo sfinimento, è più corretto mettere un cardinale, cioè un numero 44esimo, per quale motivo? Perché già ne sono passati 6, quindi in realtà me ne mancano 38, però se devo mettere un numero rispetto allo 00 devo mettere 44, quindi un numero 44esimo minuto. Quindi adesso abbiamo determinato la pericolosità del bersaglio, adesso dobbiamo determinare i dati del bersaglio, quindi dobbiamo disegnare il nostro vettore. 3,4,0,14. 3,4,0, ecco qui. Mettiamo la penna, poi tracciamo, deve essere lungo 14. Vediamo se ci siamo riusciti. Sì, questo è il vettore proprio. Ricordiamoci che quella disegnata in nero poco fa è la direttrice del modo relativo di MR e mettiamoci una piccola cuspide, trasliamo la direttrice del modo relativo sulla cuspide del vettore proprio. Ricordiamoci che il vettore relativo parte dal vettore proprio. Facciamo sempre col colore rosso. Quanto deve essere lungo, professor? Deve essere lungo 18 centimetri. Abbiamo usato la scala anche per le velocità 1 a 1, quindi 10 più 8,18. Questo è il vettore relativo. Quindi abbiamo scoperto vettore proprio, vettore relativo. Eccolo qui. Bene, adesso dobbiamo mettere il vettore bersaglio. Quindi la seconda fase che è il calcolo dati del bersaglio è terminata. Andiamo a vedere quant'è. La velocità è 12,1, quindi vb, vettore questa volta perché c'è anche la rotta, 12,1 con una rotta di 0,7,3 o 2,5,3. È chiaro che in questa direzione è ovviamente 2,5,3. 2,5,3 gradi, trattino. Riprendiamo la misura. Mettiamo il 10 qui. 12,1 nodi. 12,1 K. N. Bene. Adesso disegniamo, sempre detto ai ragazzi, mi raccomando, disegnate la nostra nave, eccola, che è messa così, quindi, e la nave, il bersaglio che è messo così. Si, vabbè, però insomma non sta al centro, sta qui. Quindi trasliamo un attimo il vettore bersaglio solo per fare il disegno. Guardate, io preferisco sempre che il disegno venga fatto. Per capire come è messa, come dovremmo vederla quando sarà in vista. Si vede benissimo, quindi, facendo il disegno, guardate, questo è il mio fanale rosso, questo è il suo fanale rosso, questo è il mio fanale verde, il suo fanale verde, scusate, e questo è il mio fanale verde. Io le dovrò dare la precedenza. Anche se non la vedo, posso anticipare la manovra. Quando la vedrò, dovrò rispettare la correx relativa alla crossing situation. Abbiamo messo, trovato i dati del bersaglio. Adesso dobbiamo mettere il, dobbiamo mettere il, facciamo di colore blu, la formiga terza 05.8 alle 22 e 57, rilevamento 007. 007, eccolo qua. Leggero, leggero, con la penna blu, eccolo, facciamo il rilevamento della formiga grande. Leggero, leggero, quasi impercettibile. Mettiamo adesso a 5,8 cm quello che noi nell'intestazione abbiamo chiamato basso fondale, in realtà è uno scoglio affiorante. Quindi questo è il minuto 0,0 di un qualcosa, mettiamo la F, così riconosciamo la formiga, di un qualcosa che sta fermo, sta assolutamente fermo. Quindi relativamente a noi si muove del nostro vettore esattamente al contrario. Sì, professor, noi stiamo facendo 14. Se adesso dobbiamo trovare il minuto 12, perché dobbiamo trovare il minuto 12, perché la manovra la faremo al minuto 12, quanto abbiamo fatto noi in 12 minuti? 1,4 in 6 minuti, 2,8 in 12 minuti. Quindi lui è come se si avvicinasse a noi, vedete che se continuiamo con questo vettore non è per niente pericoloso, si avvicinasse a noi della nostra stessa velocità, però direzione opposta. Quindi basta prendere il vettore proprio, traslarlo sulla formica terza, eccolo, e tracciare in senso opposto rispetto al nostro. Qui, per scoprire il minuto 12, basta mettere 2,8 centimetri. Quindi al minuto 12 la formica si troverà qui. Ha una distanza enorme di sicurezza, quindi non ci sarebbero problemi. Questo è il minuto 12. Ma dove si trova al minuto 12 la nave? E basta mettere 1,8 Nautical Mile rispetto al minuto 6. 1,8. Ecco qua, questo è il minuto 12. Adesso ci serve il compasso a punta scrivente. Qui mettiamo ovviamente 2 centimetri, si servirà sia per il bersaglio che per lo scoglio, la formica terza. Mettiamo adesso, cerchiamo di essere più precisi al massimo, mettiamo il cerchio delle due miglia. Questo è il CPA. Ricordiamoci il CPA primo, per entrambi. Ok? Bene, che cosa deve succedere? Deve succedere che dal minuto 12, facciamolo tratteggiato, la nave, mettiamola in nero, questa DMR prima, tangente al cerchio delle due miglia. Diamo qui DMR prima e mettiamo una piccola cuspide. Quindi troviamo immediatamente il punto di minima distanza, 2 miglia, mettendo la squadretta a 90 gradi sulla DMR prima e portandola fino al centro. Questo punto qui è il CPA primo. Benissimo, per fare in modo che la nave si trovi a 2 miglia di distanza da noi, è chiaro che noi dobbiamo traslare la DMR prima sull'unica cosa che ha diritto di non cambiare, che è il vettore bersaglio. Rispettando quale norma, professor? Rispettando la norma che è il vettore relativo, deve baciare sempre il vettore bersaglio. Quindi, dobbiamo disegnarlo così, guardate. Abbiamo traslato e dobbiamo disegnarlo in rosso, qui, in questo modo. Normalmente, scusate lo scarabocchio, normalmente cosa faremo noi? Accosteremo a dritta per evitare il bersaglio. Il problema è che se noi accostiamo a dritta, andiamo a finire molto vicino alla formica terza. Quindi, sarà lei a vincolare il nostro spostamento. Dobbiamo far passare anche lei a 2 miglia di distanza. Quindi, prendiamo il minuto 12 e ci tracciamo la tangente al cerchio. eccola qua. Questo sarà il punto in cui la formica terza ci passerà a 2 miglia di distanza, il punto di tangenza. Anche questo sarà il CpA' stavolta dell'isolotto, dello scoglio. Benissimo! Allora, se la formica si muove così, pure noi ci dobbiamo muovere così. Quindi, prendiamo questo e vediamo se riusciamo a chiudere questo nuovo triangolo con questo vettore nuovo. Vediamo un attimo. Certo, riusciamo a chiuderlo. Ci prendiamo il colore rosso e ci tracciamo. Non dobbiamo fare né una riduzione esclusivamente, né esclusivamente una costata, ma come vedete bene, Wp' dobbiamo fare per mantenere lui il bersaglio a 2 miglia, lo scoglio a 2 miglia, dobbiamo fare una riduzione e una costata. Andiamo a vedere quant'è il nostro vettore. Andiamo a leggere il nostro nuovo vettore 1, 7, 4, 3, 5, 4. Questo sta andando quasi verso Nord, quindi Wp' Vp' 3, 5, 4. Qual è la velocità? Si misura? 10, 11,5, 11,5kn. Dobbiamo anche fare una riduzione da 14 nodi a 11,5kn. Fattibile, sono solamente due nodi e mezzo. Quindi 3, 5, 4, 11,5kn sarà il nostro vettore. Ragioniamo adesso, dobbiamo verificare quando la nave si troverà sul CPA e quando il bersaglio si troverà sul CPA. Ragioniamo. Allora, questa distanza, innanzitutto questa distanza quant'è? Di, di, la scriviamo qua, distanza dal minuto 12, 12 fino al CPA primo, uguale, misuriamola, 10, 9,4. 9,4, nautical mic. Su questa linea di MR' si muoverà con il VR' che non abbiamo preso, che è questo, VR' da questo punto fino al Vb, vettore bersaglio. Andiamo a vedere, 10, 18,2kn. Quindi 9,4 diviso 18,2 uguale, per 60 uguale, 31 minuti. E qua dobbiamo scrivere, T, C, P, A primo, 31 minuti dopo la manovra. Non dobbiamo scrivere dopo l'accostata, nemmeno scrivere dopo la riduzione. È una manovra complessa, sia l'accostata che riduzione. Attenzione, quale numero dobbiamo scrivere? 31 più 12, 43. Quindi qua bisogna scrivere il numero 43. Schiamolo in nero perché il blu l'abbiamo utilizzato per la formica terza. 43. Benissimo. Noi facciamo una velocità di 11,5. Quindi anche la formica da questo punto a questo punto fa una velocità relativa di 11,5. Andiamo a vedere quanto è di primo. Schiamolo qui in blu. di primo uguale. 1, 2 sono esattamente 3 nautical mile. 3 nautical mile. La velocità relativa sarebbe la mia al contrario. Quindi è 11,5 noti. 11,5kn. Adesso dobbiamo calcolare in quanto tempo. Quindi 3 diviso 11,5 uguale per 60 uguale 16 minuti. Quindi 12 più 16. Quindi t c p a primo uguale 16 minuti dopo la manovra. Adesso qui ci dobbiamo scrivere 28. quindi ci vedremo prima a sfilare sul lato dritto a 2 miglia lo scoglio, la formica terza, poi dopo un po' di minuti dal 28esimo, mancano 15 minuti al 43esimo, ci passerà a 2 miglia il bersaglio. È chiaro che la formica non sarà più pericolosa, sarà nei settori coppieri. Una volta passato il bersaglio, riaccosteremo, rientreremo in rotta, stringeremo un po' per recuperare, aumenteremo anche la velocità, per recuperare il tempo perso nel fare questa manovra evasiva con la presenza, qui abbiamo messo basso fondale, in realtà è uno scoglio, la formica terza delle formiche di grosseto. Grazie per l'attenzione. Grazie. 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 Grazie.